Ciao a tutti e ben ritrovati, oggi siamo arrivati alla dodicesima lezione e andremo ad approfondire il tema dei join quindi scopriremo che cos'è il left, il right e l'inner join che sono i tre principali sistemi per legare le informazioni che tendenzialmente si usano in Microsoft Access allora andiamo su un database così vi faccio vedere che cosa ho preparato e adesso capiremo meglio anche che cosa sono questi join praticamente io ho preparato la tabella anagrafica e la tabella valori noi vorremmo nel nostro esercizio andare a relazionare le informazioni che sono nella prima tabella con le informazioni che sono nella seconda tabella ottenendo una tabella risultante finale con tutte le informazioni che ci sono sia sulla prima che sulla seconda allora se noi andiamo a vedere la prima, vedete io ho aperto l'articolo, le ho strutturate in modo tale da poter fare tutti gli esempi possibili e anche per darvi delle dritte molto importanti per evitare errori blandi che tendenzialmente le persone tendono sempre a fare quando relazionano informazioni tra una tabella e un'altra tabella allora in questo caso vedete io ho praticamente articolo e descrizione articolo qui ho messo dei nomi come potete vedere qui c'è una ripetizione quindi ho il penarello ripetuto due volte perché ho due descrizioni differenti perché probabilmente sono due codici differenti due tipi di penarello differenti e per me, per gli esercizi che andremo a fare oggi l'articolo è l'unico campo chiave che mi permette di legare le informazioni che sono presenti sulla tabella valori difatti se apriamo la tabella valori vedete che anche qui troviamo il campo articolo poi troviamo un valore che non c'è nella prima e troviamo un valore 2 che anche questo non c'è quindi l'unico campo che mi permette di legare le due informazioni è l'articolo anche qui nel campo valori ho fatto delle duplicazioni dell'articolo perché? perché poi nel valore ho altre informazioni piuttosto che sul valore 2 ho altre informazioni invece sul valore è magari lo stesso nome questo ci permette di fare tutti gli esercizi dopo ovviamente questo database lo trovate in descrizione magari scaricatelo nel termine di questa lezione andate a fare qualche esercizio qualche prova in autonomia così riuscirete a consolidare quello che adesso andremo a vedere perfetto, allora ce le teniamo aperte così vediamo i vari risultati come si fa a fare una relazione? allora andiamo nel menu crea e facciamo struttura query quindi facciamo una query di selezione drag and drop dell'anagrafica drag and drop della tabella valori perfetto, per fare una relazione tra una tabella e l'altra basta prendere il campo che noi vogliamo relazionare e trascinarlo sopra al campo che vogliamo relazionare nell'altra tabella se io lo mollassi sopra valore qui così ok, io farei una relazione tra il campo articolo e il campo valore che è sbagliato perché la nostra chiave di comunicazione è articolo su articolo le colonne non necessariamente si devono chiamare nello stesso nome è indifferente, l'importante è che il contenuto dei due campi sia effettivamente la chiave di comunicazione quindi qui potrebbe anche ipoteticamente chiamarsi articolo e qui chiamarsi articolo 5 ok ma non cambia il fatto che comunque comunica nel modo corretto quando noi abbiamo fatto drag and drop del campo sopra l'altro campo si crea questo legame, questa riga questa riga qua indica un tipo di join che si chiama inner join sono tre i tipi di join principali allora inner join ci permette di prendere le informazioni ad esempio se noi tiriamo giù il primo campo e tiriamo giù anche il secondo campo e poi ci tiriamo giù il campo valore ok, perché noi vogliamo avere l'articolo, la descrizione dell'articolo e il valore dell'articolo che sta su un'altra tabella quando noi facciamo un inner join cosa succede? che noi prendiamo tutte le informazioni che sono presenti sia qui che qui se noi vogliamo avere tutte le informazioni della prima tabella e solo quelle che sono presenti sulla seconda si fa il left e tra poco andiamo a vederlo quindi questa cosa significa che se io faccio l'inner join vedete io qua ho gesso, matita, pennarello e pennello sono quattro se io vado qua ho gesso, matita e pennarello però non c'è il pennello quindi e dato che sulla seconda non c'è il pennello con l'inner join io taglierò questo record come risultato quindi andiamo ad eseguirlo facciamo un salva lo eseguiamo vedete che praticamente lui ha unito tutto adesso dopo vi spiego anche perché escono più record vedete ha unito tutto però manca il record del pennello manca il record del pennello appunto perché abbiamo fatto un inner join la chiave deve essere presente su entrambe le tabelle affinché nel risultato possa comparire quello specifico record torniamo in struttura col bottone che sta qua su se noi facciamo il left join basta andare sulla righetta col mouse fare un doppio click e esce questa finestrina qua questa finestrina qua ci permette di fare vedete includi solo le righe in cui i campi collegati da entrambe le tabelle sono uguali questo è l'inner join se noi facciamo il 2 facciamo il left join praticamente includi tutti i record di anagrafica e solo i record di valori in cui i campi collegati sono uguali perfetto se noi facciamo così vedete che qui compare una freccettina significa che parto da uno a molti praticamente quindi io prenderò sempre tutte le informazioni che ci sono su una grafica e dei campi che prendo dalla tabella valori mi riporto i valori solo delle informazioni che effettivamente dove la chiave comunica se non c'è informazioni lascio nullo difatti se faccio il left join adesso comparirà anche il pennello compare il pennello vedete è comparso il pennello però su valore non c'è nessuna informazione perché ovviamente sulla tabellina dei valori non c'è l'informazione quindi il left join ci permette di fare questa cosa qua tendenzialmente è proprio il più usato in assoluto attenzione sempre che appunto quando fate il left join quella che comanda è sempre quella che sta a sinistra dove c'è la freccettina ok è quella che darà i risultati cioè i campi che comandano sono sempre quelli che stanno sulla parte di sinistra se noi vogliamo fare un right join praticamente sempre doppio clic qua è sempre fastidioso prenderlo e si fa il punto 3 ok premendo qua praticamente facciamo la freccia che va al rovescio però il right join di solito non si usa mai questo perché adesso seleziono il join e lo cancello se io faccio così quando faccio il left join e prendo il 2 la freccettina va di qua adesso io la cancello se collego le due chiavi al contrario quindi dalla valori vado all'anagrafica e poi faccio il left join e prendo il 2 la freccettina va dall'altra parte quindi quando io vado a tirare la righetta di giunzione bisognerebbe sempre partire dalla tabella master quella che parte che pilota il tutto ok nel nostro caso noi vogliamo sempre avere tutti i record di questa tabellina e solo quelli che combattono dell'altra tabellina quindi la chiave, il legame lo facciamo sempre da quella master a quella che poi vogliamo andare ad integrare così utilizzeremo sempre l'informazione di inner join oppure il left join il right join praticamente non lo userete praticamente mai è molto difficile che andrete ad utilizzare a meno che non fate cose veramente complesse comunque questo è il succo dei due sistemi però andiamo a vedere i risultati io qua vedete ho fatto una query standard quindi lui mi fa mi tira giù i campi le dà la tabella e poi si può dare un ordinamento eccetera non ho messo il totali quello che va a fare il raggruppamento difatti se noi andiamo a vedere cosa c'è qua noi abbiamo praticamente il pennarello che ce l'abbiamo due volte ges una volta matita una volta e il pennello una volta andiamo a vedere quando eseguiamo la query cosa succede praticamente succede che qui avevamo solo il pennarello due volte quindi abbiamo un pennarello due volte ma in realtà lo troviamo anche un'altra volta e poi troviamo anche gesso due volte ok cosa è successo? praticamente se noi andiamo a vedere la tabella valori andiamo a vedere pennarello sulla tabella valori ok troviamo praticamente l'articolo che è ripetuto perché sul campo valore 2 abbiamo due indicazioni differenti quindi chiaro e scuro ma noi ci stiamo tirando giù l'informazione dal campo valore che è sempre lo stesso allora per risolvere questo problema una cosa importante da fare è fare il raggruppamento difatti noi basta che andiamo qua tasto destro e facciamo i totali ok facendo i totali lui va ad aggregare le informazioni quindi quando noi andiamo ad eseguirlo vediamo che effettivamente noi troviamo pennarello due volte e gesso lo troviamo due volte adesso andiamo a vedere il perché perché nell'anagrafica lo trovavamo solo una volta però già così abbiamo ottenuto un risultato più corretto perché c'è gesso due volte? perché qui ho praticamente l'articolo che è gesso e qui ho la descrizione che è grosso poi se andiamo a vedere nella tabellina dei valori io trovo due volte il gesso anche qua però nel campo valori ho due informazioni quindi nel nostro caso specifico di quest'analisi è corretto che il record del gesso come risultato ok mi dà gesso grosso gesso grosso si ripeta perché io ipoteticamente in magazzino ho due tipi di gesso e quindi è giusto che dall'origine ok mi si doppi il record e mi dia entrambe le informazioni ecco su questo punto della duplicazione bisogna sempre 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 porre molta attenzione è uno degli errori più banali che tendenzialmente tutti commettano allora la prima cosa che bisogna controllare quando si fa una query che sia una query di selezione che sia una query con tre tabelle in join che sia una, un inner join, un left join quello che volete quando voi fate una query dovete sempre sempre controllare quanti record avete in uscita in questo caso noi ne abbiamo praticamente sei perché questo? nel nostro caso cosa succede? abbiamo praticamente la tabella anagrafica e la tabella valori e noi qui facciamo un left join quindi quella che comanda è la tabella di anagrafica quindi noi tendenzialmente la regola è questo non è sempre vero e l'abbiamo appena visto nel caso che abbiamo appena visto però tendenzialmente la tabella di partenza quella che pilota deve sempre in uscita la query mantenere gli stessi record quindi se noi andiamo nella tabella anagrafica e vediamo che in basso ci sono cinque record e poi quando noi eseguiamo questa query ne abbiamo sei ok? ci deve suonare un campanello d'allarme perché dobbiamo essere certi che effettivamente la duplicazione di record sia corretta per il caso che state creando se i record sono differenti bisogna veramente stare molto attenti ipotizziamo anche un caso io qui ho l'anagrafica ipotizziamo che qui ho la quantità versata anzi la possiamo anche fare allora andiamo in struttura e mettiamo che ad esempio qui ho il versato e qui ci metto un bel intero lungo ok? e andiamo dentro e ci mettiamo ad esempio dieci facciamo cinque cinque tre sei perfetto noi abbiamo potenziato la nostra tabella adesso chiudiamo la query 1 la riapriamo adesso c'è anche il versato quando noi tiriamo giù il versato ok? e qui facciamo anche un raggruppa vedete che su Gesso io ho praticamente due volte il 6 quindi ho effettivamente un versamento doppio quindi quando io poi andrò nel report a calcolare il versato del mio articolo mi trovo 12 su Gesso però è sbagliato è sbagliato perché il versato io qui ce l'ho nell'anagrafica quindi nella tabella valori qui ho due informazioni anagrafiche che mi vanno a duplicare l'articolo probabilmente per collegarsi a questa tabella in questo caso la chiave del solo articolo non è sufficiente bisognerebbe avere un dettaglio maggiore per fare il join più corretto adesso dipende sempre da caso a caso nel caso che stiamo vedendo adesso è stato studiato per farvi vedere un po' queste casistiche qua però poi quando avete le misure nella tabella in cui partite sempre attenzione perché i duplicati poi effettivamente vi raddoppiano la quantità oppure ve la triplicano quindi è da controllare sempre tendenzialmente la regola ripete ancora una volta se parto con 10 record tendenzialmente ci si aspetta di chiudere la query sempre con 10 record se ce ne sono di più va fatta l'analisi per capire se quello che state facendo è corretto bene direi che abbiamo visto praticamente tutto andiamo a fare un ripasso molto velocemente ancora un'informazione velocissima qui avete visto che abbiamo fatto praticamente il legame con un solo campo però nulla vieta di utilizzare anche altri campi per fare più join quindi magari la chiave potrebbe essere composta da più campi tra le due tabelle ne potete usare quante ne volete non c'è nessun limite ovviamente se fate il left sul primo campo va fatto anche sul secondo non ha molto senso andare a fare un left e un inner con un altro campo anche se comunque potete farlo se volete andando su google e cercando la parola join ok e andando sulle immagini compaiono un po' di immagini che spiegano un po' come funzionano i join quindi molto velocemente riepilogando come funziona questo è l'inner join quindi abbiamo la tabella A e la tabella B e riporta il risultato di soli record dove la chiave che abbiamo scelto che sia un campo o che siano più campi comunica tra le due tabelle tutti gli altri record vengono scartati questo è il left join dove prende sempre tutti i record della prima tabella sempre e solo il record della seconda tabella dove la chiave comunica ok e il right join è praticamente il contrario ma come vedevamo in access tendenzialmente si tende a non utilizzare perché basta cambiare come andiamo a fare il collegamento sempre meglio tenere inner e left join che sono sempre tutti uguali nella prossima lezione andiamo a vedere questi due qua sotto quindi andiamo ad escludere delle cose della prima tabella bene come sempre se la risorsa è stata di vostro gradimento magari condividetela nei social così mi aiuterete a far crescere un pochino il canale se vi fa piacere lasciate un like iscrivetevi se non siete iscritti vi ringrazio molto per l'attenzione ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao ciao